Molto spesso vi rappresentiamo storie di ordinario degrado, ma quest'oggi vogliamo farvi vedere una realtà che forse supera l'immaginazione, perché non potevamo immaginare che la inciviltà e l'incuria arrivasse a tanto. Siamo in piazza Marconi all'angolo con via Gorizia e vedete cosa giace qui abbandonato da una quindicina di giorni. È una discarica a cielo aperto dove c'è di tutto, frigoriferi, scatoloni, insomma una varietà incredibile e inconcepibile. Sia perché sembra immaginabile che i cittadini incivili siano in grado appunto di arrivare a tanto e sia perché non possiamo giustificare una lentezza da parte del servizio di nettezza urbana che appunto da 15 giorni non provvede alla rimozione di questi inerti. E tutto giace così abbandonato nel pieno cuore di Taranto, nel borgo di Taranto. Si sono fatti tanti sforzi per rivitalizzare, per riqualificare piazza Marconi, ma poi certe immagini c'è poco da fare e da dire, per così dire, spezzano le braccia. E non è solo questo angolo disgraziato, tra virgolette, ma è un po' tutto il resto della piazza che giace in uno stato di abbandono, di decozione, di inerzia, forse di rassegnazione. Un tempo vi era una struttura, una piccola struttura di accoglienza, un bar. Ora invece giace tutto così, nell'oblio, abbandonato. Vi sono anche dei giochi per bambini, ma sfido chiunque, sfido qualunque genitore a voler portare i bambini a giocare, a divertirsi in un'area ormai degradata, decotta. Vedete qui tutto salta a pezzi, persino i mattoni in gomma sistemati davanti ai giochi. L'erba, una volta tagliata, continua a crescere rigogliosa. Poi magari dovremo attendere mesi e mesi perché sia realizzata l'azione di bonifica. E così le persone che vogliono godere di un po' di fresco si trovano in quella che era una volta la ridente Piazza Marconi. Che peccato! Che peccato!